Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Abbiamo visto che cos'è il belting e come rendere la voce potente anche sugli acuti. Oggi vediamo degli esercizi al pianoforte per imparare piano piano a fare il belting allenando la voce con l'aiuto del pianoforte. Dopo la sigla. Bene ragazzi, facciamo un vocalizzo al pianoforte utilizzando, solitamente si utilizza una mascherina di quelle di gomma, avete per esempio, per coprire naso e bocca. Però, siccome non tutti hanno una mascherina in casa, vi faccio vedere come si può fare utilizzando semplicemente le mani. Quindi copriamo completamente naso e bocca, senza chiudere il naso, però cercando di non far passare spazio, proprio coprendo tutti gli spazi vuoti e facciamo un vocalizzo con la A facendo, partendo da, anche per i bassi, diciamo non andiamo troppo in basso, tanto questo serve per andare più su con la voce e facciamo 5 note. per i bassi, per le voci femminili, tipo i contralti, faranno questo e lo facciamo con questa mascherina. Io metto l'accordo, sentirete moltissimo la vostra voce ed è facile cantare in questo modo, ve ne accorgerete. Andiamo avanti. Per le voci basse, degli uomini. Andiamo avanti. Ovviamente se sentite fatica, fermatevi, però cercate di essere leggeri. In questo modo, quando voi aprirete, vi faccio sentire. uscirà una voce potentissima. Non so se si sente dal video, ma è davvero forte. Cercate di non sforzare troppo. Dovete comunque sempre cantare sul fiato. e mai spingere troppo. Però, insomma, mettete le mani in questo modo. Vi sentirete meglio e andrà sicuramente bene. Andiamo ancora un altro po'. Su. Fate voi. Per gli uomini. Per le donne. Per le donne. Sarà così alto. Ovviamente se vedete che non arrivate più all'altezza del suono così in alto, fermatevi e, quando ritorniamo in basso, vi collegate quando sentite di potercela fare. Andiamo avanti. Facciamo continuare gli uomini, soprattutto. Le donne anche possono farlo, però attenzione a non esagerare troppo. Sempre con la mascherina formata dalle mani. Facciamo ancora un paio. Ultimo. Bene, torniamo in basso. Sempre per semitoni. Gli uomini saranno qui. Gli uomini saranno qui. Gli uomini saranno qui. Le donne sono qui. Gli uomini saranno qui. Gli uomini saranno qui. Gli uomini saranno qui. Femminucce. Ultimo. Per i bassi. Ok, questo è un esercizio abbastanza delicato. Cercate di non portarvi all'estremità, ve lo ripeto. Se sentite fatica o dolore alla gola, fermatevi assolutamente. Vi ricordo di bere comunque tanta acqua per lubrificare e per far stare sempre umido l'apparato fonatorio. Ebbene, spero di esservi stato utile con questo esercizio. Inoltre, qualche canzone con un'alta difficoltà potete provare a cantarla con le mani così. Ad esempio un brano di Bruno Mars, che ne so, When I Was Your Man, mi viene in mente. Poi vedrete che quando toglierete la mascherina sarà più facile cantarlo. Allenatevi e fatemi sapere nei commenti come va. Ciao ciao, alla prossima!